Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono T ed oggi siamo su Freddy Fazbear's Pizza In realtà questo non è il vero titolo del gioco perché è Fazbear's Nightmare Potremmo essere su un nuovo episodio delle brutte copie di Five Nights at Freddy's Non ne sono sicuro, vediamo che cosa succede in questo episodio Facciamo Start the Investigation Eh ma io vorrevo parlare Mark Schmidt mi senti Yeah I guess this franchise will never get away from the press I got a memo before leaving that was meant for you You were busy or something Goes like this Ahem To Rebecca This is what you must know about the restaurant The animatronics are never deactivated So you might have to deal with them Our only tip is to run and hide Also don't stay on a spot for too long Or it gets angry What kind of a joke is this? Look just go around the place and see if you can find any clues I call you in an hour Good luck Ogni ora ci chiamerà sto tizio Dobbiamo correre e nasconderci Non possiamo rimanere nello stesso punto per troppo tempo Se non arriva Golden Freddy Non è possibile? What? What? Eh what? Che cos'è questa cosa? Va bene ragazzi Possiamo Aspetta Possiamo interagire con No Spazio si può saltare Vabbè Freddy Il puppet Cavolo è quella cosa Bonnie che cammina sui tavoli È bellissimo però Posso uscire Qua Meh Eh vabbè Cerchiamo di fare qualcosa di concreto Ragazzi in sto gioco perché Potrebbe rivelarsi Ah è solo la ragnatela Rules for safety Live before dark Eh Sono riuscito a fare un giro di 360 gradi Senza accorgermene Allora si parte dall'altro corridoio allora Ok allora non si può entrare nel puppet neanche Ok abbiamo imparato questo finora Eh quello cos'è No pensavo che era Fredbear va bene Andiamo sullo stage Se non moriamo prima Ok Bonnie vai la Stage Freddy Vabbè forse no Cioè non ha senso stare qui Già Cucina Fredbear Predizione Inutile gioco Giuro che dopo sta partita Non ci giocherò mai più in tutta la vita Che cavolo era quella cosa Perché è comparsa Cicca Puppet puoi morire tipo No Freddy Foxy Questo gioco è inutile ragazzi Siamo tornati sulle brutte copie di Five Nights at Freddy's Allora Questo era Fuzzbear's Nightmare Visto che ho esplorato tutta la mappa Non c'era nulla Nulla Di interessante Ci sposteremo nel prossimo gioco Quindi Fuck off mate Allora ragazzi siamo su Fun with Fuzzbear Praticamente una parodia di Five Nights at Freddy's 4 Di Nascondino Tipo Fun with Splash Trap Platicamente Platicamente Sembra con Freddy Facciamo da 90 a 100 Really easy Non so Press enter to start Vediamo di capire come funziona Ok quindi Bisogna ascoltare Treff Rattles Ce l'abbiamo fatta ragazzi Completato Customize Time 61 Vediamo se riusciamo a fare un extreme Press enter to start Ce l'abbiamo fatta Assurdo ragazzi Siamo riusciti a fare Fun with Fuzzbear's Extreme Prima fare con zero Ok 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 è fattibile È fattibile ragazzi Non penso che sia fattibile Vabbè Cambiamo Maledizione Perché sta diventando Forse noioso anche E Vediamo qual è il massimo Tanto per Abbiamo anche Fun with Nightmare Fun with Fredbear Quindi Perfetto Ci potremmo divertire Vediamo qual è il massimo Un attimo 999 Ok Quindi ragazzi Spostiamoci al prossimo Ragazzi siamo su Fun with Fredbear Allora ragazzi Abbiamo ben tre modalità Left hallway Right hallway E closet Quindi le faremo tutte e tre Sperando di non morire Time Avevamo messo 100 prima Cerchiamo di farlo anche qui Anzi Facciamo 50 45 50 Fuck off È comparso ragazzi Ce l'abbiamo fatta Abbiamo fatto extreme Facciamo closet Perché sono curioso Ho detto Facciamo closet Maledizione Facciamo Ok Vediamo Ah Coming soon Coming soon Scritto con due M Anche bellissimo Vediamo l'altro Eh ma sei scarso proprio Maledizione Vabbè ragazzi Alla sto punto Questo era Fun with Fredbear Abbiamo ancora Fun with Nightmare E poi E poi niente E poi Boo Quindi ragazzi Ci vedremo là Allora ragazzi Siamo su Fun with Nightmare GF Golden Freddy Golden Fredbear Non sono sicuro Qua Timer 50 Sicuramente You can't take your time Facciamo start Siamo contro Che cavolo è Quell'orrenda cosa Siamo contro Nightmare Adesso comunque Nightmare 50 è il tempo Minimo Penso O massimo Boo Ok Ce l'abbiamo fatta Fatto Evidentemente ragazzi Sono un pro Con I fan With Splash Trap Sembrerebbe Vabbè anche abbiamo Fun with Altri personaggi Ma sono troppo pro Ragazzi Per queste cose Quindi Mi so che dovremmo mettere Anche qui uno Voglio vedere il jumpscare Cos'era Cos'era quello Era orrendo Ragazzi Cambiamo subito Perché qua non è possibile Veramente Allora ragazzi Allora ragazzi Siamo su Night Shift At Samuel's Reset Non so che cosa sia Mary Robert Wow Questo era Samuel Versione umana Wolfush È bellissimo Sposa The doll Perché Perché esiste Sta gente Ok Extra teasers Next Versione 2.0 Che cosa Vabbè Ragazzi So che Vi fa male agli occhi Vedere questi giochi Ma facciamo Start simulation Hello Welcome to the new And improved Night Shift At Samuel's Horror Attraction Simulation Orden S A S H A S Nsas S I'm Mary And I'm here To help you It's easy to play Use the green light To make digital Samuel go away But keep The green light Consume a lot Of energy Use the control Panel to reset The light energy And to reset The structure Energy Don't let The monitor Go down Keep press the button Charge battery To recharge the battery In the case The flashlights Battery will go down Don't worry Press the emergency Button And you will Recharge all the systems But be patient It takes a lot of time Survive from 12 a.m. to 8 a.m. If you end We will give you a present Good luck Entering simulation 3 2 2 1 E' solo una simulazione Ragazzi What? Ehm G What the fuck? Era una simulazione Tipo di una roba Incredibile nel mondo Cos'è Nightmare? Tanto per vedere Nightmare Cos'è? Vediamo How to play Attract Digital Samuel To you With a whistle And waving your hand When he is really close Hide yourself When you whistled Or waved your hand Hide yourself to me And get closer to you You have only 60 seconds It's a bit hard But you will understand In the future What are you waiting for? Non ho capito La dobbiamo Chiamare Digital Samuel Ma senza farci ammazzare Non è venuto Non so per qual motivo Ma edizione Ops You lose Ammazzati però Questo ragazzi era Night Shift At Samuel's Reset Gioco Incredibile Nel mondo Andiamo al prossimo Perché Adesso Tanto Grazie a tutti. Grazie a tutti.